È stato importante subito impattare la partita nel miglior modo possibile, infatti siamo subito andati in vantaggio poi è stato un po' scioccante dopo i primi 3-4 minuti di partita l'espulsione del nostro oggi capitano Pernic già avevamo pochi giocatori, poche rotazione, avevamo in panchina, avevamo ancora meno devo dare un grande applauso ai miei compagni di squadra che oggi hanno difeso soprattutto il primo tempo in maniera eccezionale aiutandomi nelle parate e in tutta la partita poi ovviamente ci sta il normale calo fisico dei ragazzi al termine di questa partita abbiamo subito qualche contropiede ma la partita era sicuramente in gestione domani sarà un'altra battaglia, oggi era un'altra squadra, non era il Trieste che conoscete tutti domani finalmente ritorneranno gli indisponibili Capitan Visintin e il nostro Terzino Sandrin e in più avremo Pernic con noi dal primo minuto in campo quindi domani tre dei settimi dei giocatori sono diversi in maniera tale che potremo dare finalmente il giusto peso a questo Trieste per questo finale non è andata come speravamo, l'abbiamo preparata al massimo nell'allenamento ma purtroppo non siamo riusciti a gestire quello che avevamo preparato sarà stata un po' l'emozione, un po' magari la squadra avversaria che ha giocato un'ottima palla a mano sicuramente daremo il massimo, possiamo dare molto di più e lo faremo sicuramente nei prossimi giorni grazie a tutti